Il super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è stato arrestato questa mattina a Palermo grazie ad un blitz dei Carabinieri del Ross. Termina così una latitanza lunga 30 anni. L'arresto di Matteo Messina Denaro è avvenuto a 30 anni esatti da quello di Totò Riina, che fu catturato il 15 gennaio 1993, sempre a Palermo. Denaro è stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena, dove era in cura da oltre un anno. Il boss si era recato nella clinica privata di Palermo per sottoporsi a terapie oncologiche a causa di un tumore al colon scoperto ormai un anno fa. Nel documento falso, esibito ai sanitari della Maddalena che lo avevano operato, c'era scritto il nome di Andrea Bonafede, lo dichiara il comandante del Ross dei Carabinieri, Pasquale Angelo Santo, dopo l'arresto del boss. L'ultimo padrino è stato trasferito nella caserma San Lorenzo e poi all'aeroporto di Bocca di Falco, per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza. Denaro, a quanto si apprende da fonti investigative, faceva periodicamente controlli in quella struttura, che la scorsa notte, durante il blitz del Ross, era stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare tutti gli altri pazienti in cura. Quando è stato arrestato Messina Denaro non era allettato, ma stava eseguendo dei controlli. Alla vista dei Carabinieri avrebbe provato a fuggire, fortunatamente senza riuscirci. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capo mafia di Castelvetrano è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Messina Denaro era l'ultimo boss mafioso di prima grandezza ancora ricercato. Per il suo arresto negli anni sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine, oggi la cattura che ha finalmente messo la parola fine alla sua fuga decennale. Una latitanza record, come quella dei suoi fedeli alleati Totò Riina, sfuggito alle manette per 23 anni, e Bernardo Provenzano, catturato dopo 38 anni di latitanza.